Davide, anche tu sei uno dei pochi che quattro mesi fa era tutta un'altra storia. Come hai vissuto questa partita e magari un'altra settimana? No, beh, non era una rivincita, anche perché quest'anno siamo partiti con altri obiettivi. Niente, è stata una partita difficile, una squadra forte. Siamo contenti del mister che ci sta dando un'idea di gioco. Da fuori penso che si veda, ecco. Sono contento, anche tutta la squadra. Preferisci in questa posizione? No, in realtà dove mette il mister gioco. L'importante è mettersi a disposizione della squadra. Oggi è una partita di sacrificio e mi sono impegnato al massimo e spero di aver dato qualcosa di importante alla squadra. Quello che volevo chiedere è che tu non stai un po' in tutte le giornate vedendo la parte positiva del pubblico di Mantua, no? Quindi che impressioni hai da farci vedere uno stadio non certamente come l'anno scorso? Vabbè, basta poco ai tifosi mantuvani. Se loro da fuori vedono che la squadra ci mette impegno, dedizione, l'engono in massa. Anche l'anno scorso con mille difficoltà si è visto. Comunque, verso fine stagione, sono venuti in tanti. Quest'anno stiamo facendo vedere un bel calcio e da dentro al campo si vede quanto ci tengono. Noi siamo felicissimi perché non abbiamo obiettivi, però si vede che il tifoso Mantovano ci crede. Noi facciamo questo percorso e andiamo avanti così.